e questo è il famoso aglio mammut qui lo vedete un po diciamo piantato in superficie per farlo vedere qui è appena nato come esce fuori le varie foglie eccetera eccetera 100% biologico naturalmente e vi assicuro la testa d'aglio più grande che ho avuto pesa 800 grammi pesava perché ormai ma di media va dalle 400 agli 800 grammi è un aglio a tutti gli effetti solo che molto più digeribile leggero dentro al sugo si squaglia si perde si dissolve ed è buono sia fresco che diciamo a bulbo secco da provare da provare è unico questo è solo uno spicchio io lo consumo anche fresco è ottimo a destra è l'aglio fresco a sinistra sono due cipolle sempre fresco io lo mischio lo arrostisco tutto insieme o in padella una piastra e col pane tutti i giorni quasi a casa mia ormai è in abitudine e questo è il monte paradiso dove lo coltivo è una località stupenda incontaminata ancora fino ad oggi ancora incontaminata è un monte paradiso è un monte paradiso è un monte addio Grazie a tutti